lunedì 20 novembre a milano all'opera cuoio erba sudore prodotta dall'associazione percorso della memoria rosso blu è andato il diploma di merito del 35esimo festival mondiale del cinema sportivo noi siamo con orfeo orlando regista dell'opera che ci racconta un po come sono andate le cose orfeo da cosa nasce questo progetto questo progetto nasce appunto dall'associazione del percorso della memoria rosso blu che si costituisce ufficialmente nel 2012 grazie a christian ventura e stefano dall'oli due promotori che nel 2014 inizia i primi percorsi guidati alla certosa alla scoperta delle delle tombe dei grandi giocatori dei grandi eroi rosso blu in primis il presidente renato dall'ara e da lì l'idea appunto dopo dopo queste visite guidate che hanno avuto un grosso successo di pubblico l'idea di creare appunto uno spettacolo teatrale cuoio erba sudore che ha debutato nel dicembre del 2014 a casa lecchio di reno al teatro laura betti e poi l'idea ulteriore di partecipare a questo importantissimo contest internazionale a milano e con la trasposizione video appunto dell'opera teatrale quanti erano i video in gara certo erano più di 900 da tutto il mondo in pratica tutto il mondo era rappresentato e sono stati selezionati 40 video finalisti quindi una soddisfazione enorme anche perché erano rappresentati veramente tutti i paesi del mondo quindi essere lì essere in finale essere premiati è stato per noi una grandissima soddisfazione che storia ci racconta cuoio erba sudore praticamente corre in parallelo la storia tra la fondazione del nostro grande bologna con il novecento della nostra il secolo scorso della nostra città quindi praticamente racconta parallelamente un secolo di storia della nostra città con tutti gli accadimenti anche drammatici quindi la prima la seconda guerra mondiale e la strage di bologna i fatti del 77 e attraverso il il racconto dei grandi rosso blu quindi dalla da rigogra di fondatore della della uno dei fondatori del bologna è colui che portò a bologna la maglia fino arrivare ai grandi schiavio e biavati sansone il grande giacomino tazio roversi insomma abbiamo cercato di raccontare in quello che si può raccontare chiaramente in un'ora e mezza di spettacolo teatrale un secolo di storia della nostra città e della nostra grande squadra era una cosa che sentivamo sia noi della associazione e io stesso che il bologna fosse finalmente rappresentato anche ai più alti livelli perché sono anche abbastanza diciamo così si posso permettermi stufo di sentire sempre parlare di juve milan inter eccetera eccetera noi abbiamo una grande storia una storia che va assolutamente valorizzata e che tutti conoscono che però ogni tanto viene messa un po nel dimenticatoio da parte diciamo dei grandi dei grandi media anche nazionali essere stati lì e aver dimostrato che anche il bologna ha una storia importantissima è una delle delle squadre diciamo così più gloriose e sarebbe meglio non dimenticarlo e questo mi ha fatto molto piacere quindi poterlo rimarcare non dimenticarlo